Buona giornata amici di Fano TV. Oggi è sabato 24 dicembre 2022 e cosa si può dire oggi per iniziare la nostra giornata con la nostra rassegna stampa? Solo due parole. Buon Natale. Buon Natale che sia un Natale sereno, ve lo auguro con tutti gli amici di Fano TV che anche oggi si impegneranno per fornire le notizie, per dare vivacità alla nostra emittente e soprattutto per dare un senso di pace e di serenità a chi ha e a chi ne ha veramente bisogno. E vediamo subito l'almanacco del giorno a partire dal Santo. Oggi si festeggia San Delfino di Bordeaux, primo vescovo della città francese attestato con sicurezza. Compì un intenso apostolato San Delfino di conversione, combatte le prime eresie e acquistò un grande prestigio per il suo ruolo nelle controversie religiose del V secolo. San Delfino di Bordeaux, un santo molto venerato dai francesi ma anche un po' da tutta la chiesa universale. Vediamo anche le previsioni del tempo. Oggi una giornata tutto sommato tranquilla, tranquilla. Vediamo che ci saranno soltanto delle nuvi leggere che passeranno su tutta la regione, forse qualche piovasco nel pomeriggio. Le temperature si attestano sugli 8-13 gradi, non fa molto freddo nemmeno questa mattina, 8 gradi di temperatura, insomma sono un pochino superiori alla media. Ormai ci inoltriamo nel pieno dell'inverno e tra breve avremo anche delle temperature più rigide. Ciò detto, passiamo alla rassegna stampa e vediamo come il Corriere Adriatico oggi apre con il tema principale che è stato oggetto di grande dibattito, di intenso e lungo anche dibattito nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano. Si è parlato del prolungamento, anzi della ultimazione degli interquartieri, un progetto che si può dire che è ressuscitato perché sembrava che non dando la concessione al termine, non dando la proroga al termine del 31 dicembre in cui, entro cui si avrebbe dovuto concedere, si sarebbero dovuti concedere i lavori, scusate, alla ditta che gli avrebbe dovuti eseguire, il finanziamento sarebbe stato ritirato. Ma c'è stato un escamotage assunto dalla Giunta. Grazie al progetto, al nuovo progetto approvato dalla sovraintendenza con le proprie indicazioni, è aumentato anche il budget di investimento. Questo ha portato la cifra dai 20 milioni concessi dalla Regione a 25 milioni, il che ha fatto sì che il progetto rientrasse in quel pacchetto che il Governo ha potuto fare una dilazione, cioè ha potuto prolungare i termini per la concessione dei lavori al momento di sei mesi, ma non è detto che tra breve non lo faccia anche per un anno. Quindi c'è tutto il tempo necessario per predisporre tutti gli atti per il termine di questo progetto, per il termine di questa arteria, il prolungamento degli interquartieri dal centro tennis della trave fino alla statale adriatica. Ovviamente è un progetto molto contestato, sia dagli ambientalisti che dai residenti di Gimarra, che dalle forze politiche di opposizione che in Consiglio Comunale hanno fatto sentire la loro voce. Soprattutto il Movimento 5 Stelle ha aperto le ostilità pronunciando cinque pregiudiziali che avrebbero dovuto consentire il ritiro della delibera. Queste sono state oggetto di esamina nel momento in cui la seduta è stata sospesa per un lungo periodo, per oltre mezz'ora, da parte dei dirigenti che alla fine però l'hanno tutte respinte. Quindi è iniziata la discussione, il confronto, possiamo dire anche la bagarre. E c'è stato un confronto serrato tra il Partito Democratico che ha così evidenziato i pregi e l'utilità di questa nuova arteria e invece l'opposizione che ne ha denunciato i limiti. Una copertura finanziaria ancora precaria, il fatto che non risolverebbe i problemi del traffico, poi tutte le complicanze progettuali che ci sono state. Insomma alla fine la delibera è stata approvata a maggioranza con qualche distinguo anche all'interno dell'opposizione dove alcuni, dove un consigliere ha dato il voto contrario mentre altri due capigruppo addirittura delle liste civiche si sono astenuti. E parliamo anche della notte di San Silvestro perché ieri l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli ha annunciato il recupero di questa bella festa che era stata sospesa durante gli anni della pandemia che si farà il prossimo 31 gennaio, eh sì, 31 dicembre. Notte di San Silvestro, si torna a fare la festa in piazza, fuochi artificiali vietati, percorsi di fuga definiti e sorvegliati. Ci sarà comunque un grande apparato di sicurezza. E quali sono gli spettacoli in programma? Ci sarà un grande concerto da parte del gruppo The Best Of, interprete di musiche italiane e straniere degli ultimi 50 anni e poi ancora un musical, un musical molto bello interpretato dalla Compagnia dell'Arancia al Teatro della Fortuna. Si allestisce Cenerentola, una favola, anzi diciamo meglio una fiaba, una fiaba per bambini ma anche per tutti coloro che da bambini hanno un arco di età fino a 90 anni. Un bello spettacolo per tutti che potrà essere visto poco prima dello scadere della mezzanotte. Infatti lo spettacolo terminerà in tempo perché il pubblico possa uscire dal teatro e festeggiare insieme con quello della piazza l'arrivo del nuovo anno. Altro spettacolo da non perdere è quello che si svolgerà contemporaneamente al Cinemateatro Politeama. Si tratta di Ride ben chi ride l'ultimo, allestito dal San Costanzo Show per la regia di Oscar Genovese e Paola Galassi. E poi ci sarà ovviamente la partecipazione dei beniamini del pubblico fanese e sarà uno spettacolo tutto da ridere. In funzione anche la pista di ghiaccio nel parcheggio dell'ex caserma Montevecchio, non molto lontano dalla Rocca Malatestiana, un centro d'attazione che attira sempre molti, molti giovani. Questa la notte di Capodanno. Polizia urbana, nuove regole per 30 pagine, stretta su musica, vandalismi e polizia. Entrato in vigore l'altro giorno il nuovo regolamento di Polizia urbana. Un regolamento che supera un po' quello in vigore, che ha comunque così evidenziato qualche lacuna rispetto all'evoluzione del trend cittadino dal 2007. È un nuovo regolamento che tiene in considerazione anche le istanze dei cittadini, per esempio quelle del Comitato del Centro Storico, dopo i fatti che hanno leso l'ordine pubblico avvenuti in Via Nolfi Sud. Ma tiene conto anche del nuovo modo di comportamento degli animali tenuti dai padroni. ebbene ci vuole un maggior senso di educazione per trattare e curare gli animali di affezione e ci saranno anche nuovi metodi di comportamento che vengono imposti dal regolamento. Per esempio quello di portare, quando si porta a passeggio il proprio animale, anche una bottiglietta d'acqua. Non solo dunque il sacchetto e la paletta per raccogliere le deiezioni, ma anche una bottiglietta d'acqua per pulire quando il cane fa la pipì in un angolo di una strada, in un muro oppure in una fioriera. In modo che né l'odore, né il cattivo odore, né il brutto spettacolo possano rimanere sul luogo. Entrato in vigore dunque giovedì 22 dicembre il nuovo regolamento. Si tratta anche di un maggior rinvito ad una educazione da parte dei cittadinanza per elevare il livello culturale e globale di tutta la città. Contributi di fine anno a 25 realtà sportive. Il Comune eroga 30.000 euro alla ginnastica Aurora, destinato allo stanziamento più consistente. Si tratta di un contributo che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500. 2.500 sono stati riconosciuti alla società di ginnastica Aurora, che è ai vertici internazionali direi dire. 2.000 euro all'Alma Juventus Fano, per quanto riguarda il ciclismo, alla Centinarolese, altra società ciclistica, alla bocciofila San Cristoforo, alla Virtus Volley, per il Memorial Dino Ambrosini, e poi all'Alms Racing, che sostiene l'avventura del centauro fanese Marco Gaggi. 1.500 euro invece andranno al Club Nautico Vivani, alla ciclistica fanese, alla bocciofila La Combattente, al Tiravolo e poi anche al Fanun Furtune Nuoto, Fanun Furtune Scherma. Queste sono un po' le attività che hanno avuto. 1.500 euro, altri 600 euro invece andranno al Santorso per l'Inter Summer Camp, 500 euro alla Compagnia degli Arcieri, all'Audax Box Club, ai Carissimi per il torneo di calcio intitolato all'Isippo, a Fano Corre per il Memorial Tonelli, mentre la Proloco, che non fa parte del novero delle società sportive, incassa comunque 800 euro per il supporto organizzativo totale in 30.000 euro. Sono queste 25 le società, tra tutte quelle che gestiscono gli impianti sportivi, sono circa un centinaio, che beneficeranno di ulteriori provvidenze da parte del Comune. Vediamo anche un'altra notizia che riguarda Fano. Nuova ala della Federiciana, arrivano 2 milioni dal PNRR. Una proposta premiata, il Sindaco ha soddisfatto un ottimo lavoro, un ottimo lavoro che dà una grande soddisfazione a coloro che ci sono impegnati per valorizzare questa istituzione culturale che è nel centro di Fano, un'istituzione storica, risale al 1600, e comunque sarà unita ad una nuova ala molto molto moderna che è stata progettata da un architetto di gran classe come Cucinotta. Scusate, sì, Cucinella, l'errore alla vigilia di Natale si impone, ma tra Cucinella e Cucinotta insomma c'è una grande differenza, lo ammettiamo. Altra proposta premiata, commenta il Sindaco Massimo Seri, che aveva salutato l'approvazione del piano di fattibilità tecnica ed economica appena un mese fa. Passiamo anche allo sport e vediamo che c'è un altro risultato negativo per la Vis Pesaro. La Vis precipita in basso, la Re Canatese si aggiudica il match nei minuti di recupero con un gol del Bomber, sbaffo, palo di Rossoni, ma la vittoria manca ormai da 13 turni. Biancorossi al penultimo posto, sono precipitati nel fondo della classifica. Dobbiamo solo lavorare, è il commento del tecnico della Vis Brevi. Abbiamo creato diverse occasioni, dovevamo cercare di fare almeno un gol e non ci siamo riusciti. Invece il Fano riesce a fare un colpo sul mercato e arriva Urbinati. Gianluca Urbinati è tornato a vestire la maglia Granata, preso ieri dalla Pistoiese, l'esperto centrocampista, che torna a vestire la maglia Granata. Ho iniziato qui tanti anni fa, ha detto, e mi piacerebbe chiudere la carriera in bellezza con il Fano Calcio. L'Urbino mastica Amaro dopo la beffa, un K.O. deciso da un episodio dubbio. Il presidente Lucarini, l'arbitro, ha preso una decisione affrettata per quella punizione, per quel rigore, per quella decisione che non è apparsa giusta. Vediamo anche la VL di Pesaro, assalto a Bologna, a Vitifrigo, verso il sold out. Savignani, lunedì dovremo essere bravi a trovare i giusti spazi e le opportunità per fare male. A questo punto vediamo qualche notizia nella regione, nella pagina pesarese del Corriere Adriatico. Vediamo che anche qui si parla di Fano. Si parla di Fano perché ieri l'assessore alla sanità, Filippo Salta Martini, è venuto a Santa Croce, dove si è inaugurata la nuova TAC. L'assessore ha parlato delle liste di attesa, ha parlato del CUP, ha parlato delle novità che presenterà il nuovo progetto regionale della sanità. Dunque, ci sono risposte che darà la regione. Finora, per esempio, il CUP ha dato solo delle risposte a livello regionale. Cioè, se uno doveva prenotare una visita residente a Pesaro, poteva essere mandato a farla anche a San Benedetto del Tronto oppure in un'altra provincia della regione. D'ora in avanti, quando sarà approvato il piano sanitario regionale nuovo, dovrà essere accontentato soltanto nell'ambito della provincia. Cioè, un pesarese non potrà essere mandato a fare le analisi a Senigallia o in Ancona, oppure ancora più nel sud delle Marche. Una novità interessante, vedremo come sarà applicata. Salta Martini si parte, dice, ad inizio gennaio. Entro febbraio il direttore AST sarà nominato. Per l'assessore la vera sfida sarà portare i romagnoli addirittura a curarsi a Pesaro, mentre adesso il trasferimento è inverso. Cioè, sono i pesaresi che vanno in Romagna. E parliamo anche della nuova TAC che è stata inaugurata nella giornata di ieri. Si tratta di una TAC mix di ingegneria clinica e high-tech. Inaugurata la Revolution Evo per diagnosi più veloci ed efficace. Si chiama appunto TAC Revolution Evo, il nuovo sistema inaugurato ieri nel reparto della diagnostica del Santa Croce di Fano, che permette l'analisi nella zona in esame su 128 strati e che consente di ottenere immagini ancora più dettagliate. Quindi mette nelle condizioni il professionista diagnostico di individuare meglio le cause della malattia. Quindi un strumento molto, molto sofisticato al servizio di tutta la comunità locale. Il Natale nuovo dell'Arcivescovo auguri social e omelia in podcast quando la tradizione incontra la modernità e domani mattina la messa in carcere. Anche il Vescovo di Pesaro, Monsignor Salvucci, celebrerà la messa di Natale tra i carcerati. Questa è una notizia che farà piacere a coloro che sono in carcere in questo momento. Alla Caritas il pranzo delle feste per i poveri volontari impegnati alla messa da oggi a Santo Stefano di Panettoni. Veramente alla Caritas ne sono giunti tantissimi in questi giorni. Ci sono panettoni giganti firmati da alcune aziende molto particolari come per esempio la boutique Ratti. Ci sono pacchi con i prodotti tipici. Ci sono angeli dei malati di tumore che fanno opera di assistenza e forse questo è il regalo più bello. In tavola comunque ci saranno i dolci, i sospesi del Lant e il maxi panettone appunto donato da Ratti alla messa. Quindi diamo la foto di questo maxi panettone che sarà il gigante della messa del giorno di Natale. Chiesa della maternità al lavoro per le crepe provocate dal sisma. I tecnici affermano tornerà a risplendere, niente danni agli affreschi del Lazzarini. Sono affreschi che nel 1700 hanno realizzato gli allievi del Lazzarini e per fortuna il sisma non li ha lesionati, non li ha deturpati. Quindi già questo è un fatto importante. Comunque il sisma ha aperto profonde crepe sul soffitto della chiesa di cui una lesione assai preoccupante. Ecco quindi i ponteggi che sono stati elevati all'interno di questo edificio e sono iniziati i lavori per il consolidamento. Mai più un Natale senza luminarie, centro spoglio e shopping svogliato. Un coro unanime dei negozianti a Pesaro. Si salva solo Vicolo Tebaldi dove le attività si sono messe insieme. Un po' un fai da te. Comunque sì, abbiamo un periodo di risparmi, di risparmi energetici. Le bollette hanno assunto dei valori stratosferici, quindi bisogna fare economia. Ma fare economia da tanta tanta tristezza, soprattutto in un periodo caldo, caldo non di atmosfera ma caldo di solidarietà come quello del Natale, è la luce da un certo senso di vivacità, di allegria. Insomma, quando poi si spengono le luci tutto diventa più smorto, diventa più spento e diventa più melanconico. Ecco perché insorgono gli esercenti e vorrebbero il prossimo Natale. Dicono vogliono con le luci, osni, osna, le luci ci devono essere, hanno dichiarato. E le attività dei consiglieri comunali costano ai pesaresi quanto un caffè a testa. E' costata poco più di un caffè a testa per ogni pesarese. L'attività e le iniziative svolte dal Consiglio Comunale durante il 2022, l'anno che sta per finire. 135 mila euro per l'indenità dei consiglieri sono i gettoni di presenza, 260 per le emissioni dei consiglieri, 790 per quelle svolte dal Presidente. Una reddicontazione totale pari a 150 mila euro di spese. Il Presidente Marco Perugini, il Presidente del Consiglio Comunale, ha fatto un piccolo consultivo del lavoro svolto. Sono stati svolti 24 consigli, come nel 2021, di cui due monotematici, sono tematici il 4 maggio sulla politica sanitaria, il 25 novembre sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro sulle donne. Insomma, 150 mila euro non è una cifra stratosferica per un anno di lavoro da parte di decine di consiglieri comunali, i quali prendono un gettone che veramente fa ridere rispetto a quello che prendono magari i consiglieri regionali o addirittura i parlamentari. Veramente, questo è l'ultimo gradino delle istituzioni comunali. Vediamo anche le notizie di Urbino. Legato a un palo malmenato, ma l'operaio si è inventato tutto, è stato denunciato per simulazione di reato questo 31enne operaio extracomunitario residente a Ferminiano, originario dell'Est Europa. ha comprato il nastro adesivo per bloccarsi, è stato riscontrato da parte degli inquirenti che il nastro adesivo con cui era stato legato, si era legato, l'aveva comprato lui stesso in un supermercato, quindi è stata veramente una simulazione di reato. Chiudiamo il Corriere Adriatico, vediamo oggi il resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata all'aspetto della sanità. Taglio del nastro per l'attacca a Santa Croce. E per le liste d'attesa, la Regione riforma il LECAP. L'assessore Saltamartini annuncia, cambia il sistema delle prenotazioni. L'obiettivo è offrire prestazioni a livello provinciale. E per controllare che tutto fili per il meglio, l'assessore Saltamartini ha garantito che ogni mese verrà appunto nella nostra provincia per verificare come andranno le cose e vedremo insomma se poi funzioneranno o meno. Un taglio alle bollette più ecologico e anche più economico, la svolta green del circolo tennis, in esse un efficientissimo impianto energetico verrà realizzato che porterà a un risparmio di circa il 60% delle bollette. Insomma, un risparmio considerevole per gli amanti del tennis. E poi vediamo anche di spalla in questo articolo con un fondo celestino, la biblioteca federiciana oltre 2 milioni dal PNRR. Insomma, un finanziamento, un finanziamento di 2 milioni. Guardate che il progetto complessivo ne costa 9, quindi è un po' un buon risultato quello ottenuto dallo Stato, poi però gli altri 7 milioni bisognerà trovarli in un altro modo. Comunque arriva con un bel regalo di Natale questo contributo dal PNRR. E poi qui vediamo un'altra delibera che è stata approvata dal Consiglio Comunale dell'altra sera, nuove antenne su fabbriche rotonde e chiese. È stato approvato il piano di nuove antenne che verranno installate nel territorio comunale. Sono stati analizzati da una commissione di esperti i siti più idoni, per l'installazione di questi grandi impianti verranno sistemati uno sui capannoni dei carri del Carnevale, un altro sulla Torre del Duomo, ancora poi sul campanile della chiesa di Sant'Anastasio a Ronco San Baccio e nei parcheggi di due cimiteri nell'entroterra fanese. Questi sono i luoghi che sono stati scelti per installare i nuovi impianti. A spasso confido, ma occhio alle multe. Questa è altra enorme nel nuovo regolamento di Polizia Urbana. Si amplia il daspo urbano, scattono obblighi per cantieri e amianto. Ci saranno vigili che controlleranno se i cantieri operativi o abbandonati hanno degli accumuli di materiali che sono pericolosi oppure sono sporchi. Oppure l'erba di un giardino, di un'abitazione, ha bisogno di essere tagliata e invece non lo è. E quindi ci sarà un giro di vite per avere una città più salubre dal punto di vista igienico e più bella dal punto di vista estetico. Musica e pattini e comicità e il capodanno in piazza. Appuntamento in piazza 20 settembre dalle 22. Sul palco anche Marco Pacassoni, il grande musicista fanese e altri. Luci stroboscopiche sulla pista di ghiaccio, poi un musical e il San Costanzo Show. Sono le iniziative che correderanno appunto l'ultima notte dell'anno. Un presepe tinto di rosso è quello che viene allestito nella chiesa del suffragio. Un presepe in cui emerge il messaggio contro la violenza delle donne. Vediamo anche, siamo ormai in conclusione, vediamo anche qualche notizia che riguarda la pagina di Pesaro. Vediamo nella prima pagina il messaggio dell'arcivescovo pesarese. Il primo Natale in città del Vescovo Salvucci. Aprite ai giovani e fate sentire la vostra voce. Il prelato parla a tutto campo degli otto mesi che sono passati dal suo arrivo, quindi un inizio di attività nel nostro territorio. Trovo che tutti i pesaresi, ha detto, dai singoli alle associazioni debbano parlare di più e cerca un maggiore contatto. In questa pagina vediamo un resoconto nuovo per quanto riguarda la vicenda del femminicidio di Anastasia, la ragazza affanese che è stata uccisa dal marito. Il piccolo Adam, il figlio della ragazza, passerà alle feste con la nonna. Il figlio della giovane mamma ucraina, uccisa, ha affidato a Delina ieri la decisione del Tribunale. Ebbene, finalmente questa vicenda sembra così giungere ad un punto decisivo, ad un punto che è lo sbocco naturale per questo ragazzo, che non può ovviamente essere affidato al padre che è in prigione, e quindi viene affidato alla nonna che molto probabilmente lo riporterà nel suo paese. Parliamo inoltre di una notizia che riguarda la raccolta dei rifiuti. Rifiuti basta tabù sugli impianti e sull'invaso in montagna non mollo. Parla così Mauro Tibiroli, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi. Era l'ultima notizia. A questo punto chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a martedì prossimo alle ore 7 e augurandovi ancora un caldo e un buon Natale. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie a tutti.